Ah, salve ragazzi e ben ritornati su Pokemon Dark Rising Quanto tempo che non portavo questo gioco, porca miseria, scusate Tempo che dovrò ancora studiare, vi lascio almeno questo episodio, spero di farcela Perché devo sfidare Gelen Yuki E me lo ricordo proprio perché mi ricordo benissimo, purtroppo Mi ricordo molto bene il fottuto Spiritomb E poi il dannato Giratina, quindi Vi porto subito un nuovo episodio di questo gioco La prossima scelta, oh è Dusk Noir, niente Giratina, molto bene Ok, un altro Pokemon ma dato in campo che non gli tolgo moltissimo Quindi oltre a Array che non so cosa utilizzare Comunque Cofagrigus è la 95, ok adesso lo ricaricherà, quindi vabbè È sempre un Pokemon distrutto, va benissimo Boom, niente, ok, andato La prossima scelta è Sabley Uh, mi mette K.O., porca zozza Mettiamo Victini Utilizzerò Onda Calda Per vedere quanto possa fare Sabley Se avete visto la mia squadra è diversa perché ho avuto il tempo di allenare un pochettino la mia squadra E quindi di portare questi Pokemon qui Utilizzo Fulmine Utilizzo Dark Pulsar Nero Q, no Ok, ho messo K.O., benissimo Ultima scelta è Giratina Ehm Vado a utilizzare il reversa ma non ha effetto Orca miseria Mettiamo Rayquaza e utilizzo il traggio Porca miseria, nooo Oh, sì, magari ce la fa Oh mio Dio, ce l'ha fatta Sì Yes Hai vinto Teo È stato un onore sfidarti Hai ottenuto una Spirit Badge Finalmente ragazzi Spirit Badge aumenta la tocca speciale di 2dpi Pokémon E prendo anche un MT Che è fuocobomba Ok benissimo Dunque, ora io cosa devo fare bro Sidney What are you? Vuoi che la polizia jestem a tu, rivieni con me Aspetta, cosa? Sto dicendo la verità La polizia ci sta inseguendo E sì, sei incluso anche te Non ho fatto niente Danarugisora ha il controllo di tutti gli ufficiali Nella regione di Core Non può essere serio Vieni? Sì, ok, andiamo Prendi La nave Che clon Che cosa? Spiegala dopo, ok, malissimo Evento fatto a caso Sydney, ok, ci siamo Benvenuto nel quartiere generale del team Dark Rising Oh, questo è fantastico Ma ho una domanda, Sydney Cosa ti è successo dopo la battaglia nel Curest Den? Ho pensato molto, Teo Ora non è tempo di parsare Non c'è tempo per parlare di me Di nuovo qui? Di nuovo partito l'evento? Cosa? No, ma dai, era Ma no, era finito l'evento Era impazzito Ma che cosa? Ma, 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 cosa? Vabbè Allora Nessun Pokemon con volo Allora Sì, posso andare a fare qualcosa Tanto sei buggato come pochi Gioco E i giochi buggati mi fa venire il nervoso Ma vabbè Comunque Dov'è che potevo andare? S, va bene Allora, andiamo magari Dall'ultimo capo palestra Che dovrebbe essere Nella città iniziale, se non sbaglio Vicino lì Nel bosco vicino, non mi ricordo benissimo Pare che dovessimo passare di qui Ehm S, s, s Oh, non mi ricordo bene Oh, dai, su Non puoi mettermi questi pochino qua Comunque Ehm Eccola qui Oh Theo, devo News importante per te Cosa succede, Florina? Ehm Sai che è il campione Della regione di Omni Adrian Beh Ehm Is Darj's main vessel Has been seen during a week Uh, you can defeat this Ok, allora Questo Adrian adesso è praticamente Il, uno dei leader preferiti di Daruji Se noi dovremo sconfiggerlo, va bene Ok Quindi, prima di tutto andiamo a sconfiggere Giovanni Che Adesso si vada di qui Ok Molto bene Dai Dradigon su, vai giù, vai giù, vai giù Bravo, bravo, bravo Ora la tecnica perfetta per andare a sconfiggere è questa Ok, allora Oltraggio Ebora Vediamo se Funziona Sì Ligon resiste Anche i dragon Oh, che miseria Molto bene Ok, perfetto Allora Ora, torniamo tutto indietro E ritorniamo Per ripetere la strada Eccoci qua Blitz Sai, sono molto Genius Tuck Feltown Sono molto deluso che Con i giocatori di Tuck Feltown Quando questi genius hanno attaccato Feltown Ora posso vedere come sei diventato Veramente forte come allenatore Ora Adesso Teos viderà i Blitz Il più grande allenatore Tre Pokémon Ho visto di peggio Ok, comunque Utilizziamo subito Oltraggio su Dragonite Che mi utilizza Hurricane Sbagliando completamente L'approccio No, no, no Confuso Oh, beh No, Dragodanza No, ti prego Porca miseria Ok Comunque ora ricaricarà sicuramente Salamence Quindi utilizzo Dragodanza Con Raikwaze E poi oltraggio Ah, lui è attaccato prima di me Parca miseria Ma lo metto KO Ultima scelta è Garciop Con un bel Oltraggio E anche lui viene messo KO Comunque abbiamo già scompito Blitz È stata una bazeglia veramente intensa Ma è durata 30 secondi Comunque T'ho detto te Ok, allora Femage mix Qualcuno I level Prendi questa MT Che è Terremoto Ok Stai per andare a salvare il tuo padre Buona idea Blitz Ho bisogno Cosa mi sta succedendo? You, Jim Leader Disgust me Tu, Ale Cavalestra Mi disgusti Prenderò il controllo di te L'userò Contro questo Ragazzi Teo Trova la pietra Drago Vai a Drago Village Corri Malispeth Oddio Cos'è? Malispeth Sarà di qui? Ok L'evento qua non c'è Dragon Village Eccolo qua Ecco Due di qui Ok, allora Prima di andare Andiamo a ricaricare la squadra Dove sono? Perché non c'è il centro Pokémon? Dove è il centro Pokémon? Scusate Centro Pokémon? Non c'è Oddio No, paura Voglio il centro Pokémon Che odio Dover far così Che poi magari c'è Ma non l'ho visto io Chi lo scusa Ok Togliamo Braviary E No, tutti loro Andiamo a recuperare questa pietra Dragova Dunque Dovevamo Andar di qui Valley Endras Entrata della valle Allora Ehm Drago in punch Sì Dove è ciao È sbagliata la grande Come? Ma sei figlio di troia Ok Ma puoi andare a qualcosa Giratino o no? Ad esempio Che ne so Buono? No Terremoto Ehm Psico No Sludge bomb No Poco bomba Non parlo cazzo Che porno di merda Gelo raggio Se Figurati Calmamente? Come no? Vabbè Lasciamo Lasciamo perdere Lasciamo perdere Ok Penso che sì Penso che dovremmo andare di qui E c'è Questa è l'unica strada Se questo non si vettesse tra le palle Ok Anche Stilix Ma figlio Figlio di figlio Di figlio Di figlio Ok Allora andiamo avanti Dragon scale Appeggierebbe fosse stata la Pietra drago Eh Io ce l'ho ancora Il repellente attivo Devo Rutilizzarlo Ok Devo rutilizzarlo Quindi andiamo di qui Oh no Per andare avanti mi serve forza No Non lo sapevo questo Vabbè Dai Sopportiamo purtroppo queste cose Per tutto Utilizzo surf Per non sprecare La mossa terremoto Quindi adesso Vediamo se qualche Qualcuno di mi bocca Purtroppo De posso comprare forza Così Togliendo Delle mosse preziose A loro Porca miseria Vabbè Intanto Per raggio Non è che Mi piace tanto come mossa Quindi Purtroppo Un piccolo sacrificio C'è da fare Quindi Andiamo Continuiamo 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 Eeeh Un altro allenatore Oh no Gliscor Che tipo è Gliscor Non lo so Ma faccio surf Lo stesso Ah super efficace Molto bene Ciao ciao Ok Allora Se non è Se non è Da andare Di qui HPA Wow Grazie Qua è bloccato Madonna che gioco Baggatissimo Storia bella Ma baggato Alcuni mi hanno detto Hai mica visto Dark Rising 2 Se è allo stesso livello Di questo Eh Pazzo Adesso bene Ok Ok Comunque Ah Penso che dovremmo Andarla Oh no Cosa Cosa è andata Chi è questa Scegli la tua strada Vabbè Ok Vediamo Purtroppo Sono un po' più furbo Oh chi è questo N Hai veramente Una grande quantità Di Resistenza Eroe Chi sei tu C'hai fatta Nella Dragon Valley Il mio nome è N Se sei curioso Come persone Nella Dragon Valley Sulla neve Cosa stai dicendo Rain Dragon However Did you dislike The snow I use it To my advantage By creating snow Which will Dragon Oh Little No problem Ok Ha creato lui La neve Se cercava la Dragon Stone Cercando Io ce l'ho No Te ho cosa Non essere allarmato Just as I mean No harm to Dragon I simply need to have This snow Before you reach Them You see I along with Another Have a special Connection Invece a un sacro Ok Abbiamo un collegamento Con un recino Mezzerrom Uh Mi sfida N Ah Ah Ok Va bene Ok Ok Proprio Con tranquillità Vabbè Vabbè dai Diciamo che Eccolo lì Eccolo lì Diciamo che Ora Ti rovino Perché metto Se a girattina Che a rai quaza Al cento Uno con dragartigli E l'altro con oltraggio Perfetto Da questa battaglia Ho concluso che Il tuo heart Is in the right place Il tuo cuore Nel posto giusto Ho rilasciato Rai Sharam e Zekom Nel posto di riposo Se vuoi In Yang In Yang Scusa se io Però ti parlo di nuovo Ok L'hai rilasciati Va bene Quindi io Se continuo di qui Sono Nella Nell'isola In Yang E hanno messo La canzone Dell'evento Di Deoxys Molto bene Mi piace Allora Ricarichiamo un attimo La squadra Prima di tutto Per poter poi Continuare Ok Ma come Ah Scusate Uh Posso sceglierne Solo una delle due O tutte e due Uh Tutte e due Bene Benissimo Dream Punch Hurricane Ok Surf Ok 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 Vediamo se riesco a catturarlo Uno No Uno solo Ecco Questo potrebbe essere Un grande problema Ultra Ball Uno Due Tre Uh Mamma mia Vediamo 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 Speriamo bene No È sempre così È sempre così Uno No Ehm Cavolo Adesso che mi serviamo una Ok Utilizzo calmamente Faccio in modo che mi tolga Pochissimo Porco di Pisco Dai No Dai Fatevi catturare Figlio di Dai Uno Due Finisci le Pokeball Oh Santa pazienza No Eh No Tutto Finito Così Non ci pensate nemmeno Vabbè ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio Perché questo mi è durato abbastanza Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete la bella piccola Mi piace Un commento Un iscrizione A rivederci al prossimo episodio Un saluto a te Ciao Ciao